Stavamo dicendo, avreste voluto essere dei nostri domani sera, però purtroppo la settimana è quella che è, settimana per prederbi e oltretutto la tua settimana, giusto? Perché la mia settimana? Eh, perché c'è la presentazione del libro, hai avuto un sacco di... Ok, in quel senso, sì, il libro è uscito il 16 di aprile, martedì appunto, e niente, adesso sto facendo le varie promozioni qua e là, nelle radio, nelle televisioni e quant'altro, e poi ci sarà una presentazione a Milano che però sarà a giugno. Ah, ok, ok. Sì, noi la presenteremo domani sera e così via, vabbè, allora cominciamo subito a parlare del libro, poi parliamo un po' del derby e tutto quanto. Perché il mio calcio eretico? Non ho avuto tempo di leggerlo. No, vabbè, ma ci mancherebbe. Nell'anticipazione. Provo a spiegarlo in sintesi. Il calcio eretico, perché insomma, diciamo che dopo il calcio giocato mi sono dedicato, allenato, sono dedicato ai giovani anche come responsabile di settore giovanile al Milan, poi ho lavorato un po' in federazione, quindi al Parma Calcio per poco più di un anno, ho avuto a che fare con i giovani. E diciamo che insieme ai miei colleghi abbiamo cercato di tracciare nuove strade, di intraprendere nuove strade, soprattutto legate a un'idea di apprendimento differente rispetto a quella che c'è nel calcio giovanile. Cioè sempre tutto legato a un'idea riduzionista che divida il tutto, che separa il tutto e quindi che si debba partire da semplice per arrivare al difficile e quindi ancora fare con la tecnica analitica, il muro, qualcuno ancora fa le forche. Noi crediamo che invece si debba prendere il gesto tecnico all'interno del gioco, è indubbio che questa è veramente una sintesi. Pensiamo anche che il talento vada accompagnato, l'allenatore debba essere un facilitatore e in questo percorso che la ragazza intraprende, visto che oggi il calcio femminile sta prendendo sempre più piede. E quindi non fermarsi a un sapere dato per sempre al conosciuto, ma provare ad approfondire, a studiare e applicare teorie che non abbiamo inventato noi, ma che erano già presenti, teorie dell'apprendimento, che sono applicabili certamente al calcio e alla sua complessità. Sì, Filippo, poi vedendo anche Ancelotti ieri sera nella partita di Manchester, insomma, una cosa è essere allenatore di prima squadra, un conto essere allenatore delle giovanili o di squadre anche dalla Lega Pro in giù, insomma. Ancelotti, cosa può insegnare a questa gente qui? Non lo so. Ma non lo so, io credo, ieri sera io sono contentissimo per Carlo, ovviamente, però ho visto un Manchester City, io vorrei che le squadre giovanili giocassero come il Manchester City, provassero a fare la partita, provassero a vincere la partita. Purtroppo il calcio è uno sport che spesso non ripaga coloro che provano più di altri di vincere. Non lo so se poi chi vince, vince con merito, perché chiaramente, insomma, Madrid ha fatto quello che poteva fare, quello che il City gli ha permesso di fare. Io però, ecco, voglio una squadra propositiva, vorrei una squadra che si prende dalle responsabilità, non che il Real Madrid non se le sia prese, però soprattutto in un settore giovanile vorrei che la famosa anche costruzione dal basso, so che la maggior parte della gente è contro, però ci sono aspetti pedagogici regati a questo strumento di lavoro, chiamiamolo così, di questa fase di gioco che secondo me sono fondamentali da utilizzare per i giovani. Poi non sto qua, questo non è il contesto per poterlo spiegare, spiego un po' nel libro e quindi va bene così, insomma. Onore a Re Carlo che va in semifinale e probabilmente andrà in finale e speriamo di vedere una bella finale magari tra PSG e Real, ecco. Sì, un po' la filosofia di Enrico Sacchi, perché ieri ho sentito in un'intervista alla RAI, insomma, gli facevano delle domande e lui molto pacatamente diceva che, insomma, ribadiva questo concetto, il concetto che tu stai dicendo, insomma, che bisogna vincere attraverso il bel gioco e poi se un giocatore c'è e non lo puoi inventare, anche dal punto di vista caratteriale e così via, insomma. Ci sono degli aspetti. Io credo che passi anche da lì, se tu cominci con un ragazzo giovane a metterlo nelle condizioni di essere, di prenderci delle responsabilità, di essere propositivo, anzi di essere proattivo, no? Oggi le aziende, perché poi tutti, allora, facendo un discorso più ampio, se poi i nostri ragazzi, anche nei contesti professionisti, ci sono pochissimi quelli che arriveranno a fare professionista, allora forse se noi cominciamo a dargli un pensiero, un'idea che è legata appunto ad essere proattivi, quindi a prevedere ciò che accadrà, no? Anche se le aziende sono reattive al mercato, implodono. Se sono proattive forse riescono a sopravvivere, ma così come nei contesti di lavoro, oggi sì, gli headhunter cercano persone che siano in grado di stare nella complessità, quindi stare nella complessità del gioco, in quelle difficoltà lì. Credo che possiamo aiutare i giovani non solo a giocare a calcio, ma attraverso il calcio, giocati in un certo modo, a dargli gli strumenti e poi per affrontare anche un mondo del lavoro che non sarà quello del pallone, insomma. Ecco, questo è un po' l'idea che c'è alla base, e non solo questa, di un approccio, di un certo approccio metodologico. Sì, è un po' quello che pensa Real Madrid nella scuola calcio di Valdebeva, se poi c'è stata anche a Viglia Viziosa di Odom qui vicino a Madrid, è un qualcosa di simile, lo sta organizzando anche la Liga. Però poi alla fine tu vedi che sono tutti figli di genitori danarosi, perché chi si può permettere di tenere un figlio fuori dal proprio paese a 50-60 mila euro all'anno, pensando che tutti diventino Cristiano Ronaldo. Invece l'obiettivo è un altro. Questo ovviamente è un altro tema. Adesso io non so quello che stai dicendo tu, non ne sono a conoscenza. Quello che io posso dire è chiaro, le società professioniste che poi fanno selezione, quindi a quattordicesimo anno di età, possono arrivare fino a dieci giocatori in deroga, che vengono da fuori regione, sono seguiti, dovrebbero almeno essere seguiti dal punto di vista pedagogico, da un'area psicopedagogica che li supporti in questo loro percorso. Dopodiché l'accessibilità invece dei giovani ad una scuola a calcio è vero che diventa un problema anche di soldi, perché non tutti si possono permettere. Una volta si poteva giocare nei campi, negli spazi verdi, nei cortili e quant'altro. Oggi se non si iscrive una scuola a calcio è molto più difficile giocare, a calcio. E allora subentra anche quel tema che tu hai accennato, però questo è un altro e un ulteriore problema del nostro sistema calcio. Però le scuole calcio dovrebbero fare più calcio da strada, anziché riempire di connetti e di cinesini, come si suol dire, i campi. Dovremmo riavvicinarci di più al gioco, a quel gioco lì, insomma. Sì, ma infatti parlando anche con l'Alvaro Benito, che lui era un ex allenatore delle giovani del Real Madrid, adesso fa la terza voce a Movistar e così via, lui mi diceva, guarda che io quando andavo a Val de Bevas e chiedevo a questi ragazzi, ma voi quante ore giocate a pallone? Loro si guardavano con l'area stupefatta e dicevano, ma noi a pallone giochiamo solo quando veniamo qui. Non sono più le 7, 8, 10 ore di una volta, non ti dico poi d'estate, quando finivano le scuole, tu andavi all'oratorio alle 10 di mattina, io mi ricordo i fratelli Zingrini, che non avevano i soldi per andare allo stadio, loro andavano all'oratorio la domenica pomeriggio, a giugno, che si giocava ancora a giugno e così via, col pallone, perché chi portava il pallone era quello che giocava, chi portava il pallone era... Con la maglia del Milan i fratelli Zingrini erano lì costantemente dalle 2 del pomeriggio alle 8 di sera. No, l'importante è che poi anche chi va in certi contesti e che riesce ad accedere a certi contesti, poi bisogna vedere se li fanno giocare a calcio, se li fanno fare tante altre cose che sono molto lontane da ciò che è il calcio. Ecco perché secondo me ci sono tanti problemi anche affinché questi ragazzi apprendano a giocare a calcio, perché poi ciò che li fa apprendere è naturalmente l'allenatore, l'accompagnatore, che deve essere l'accompagnatore del loro percorso, deve essere una guida, deve essere colui che appunto che li sostiene le difficoltà. Invece spesso lavorano su tutti gli altri aspetti che non sono la comprensione del gioco. Questo è un altro tema che esce nel libro, insomma. Sì, sì, sì. Va bene, adesso parliamo un po' dell'attualità, per cui stasera grande partita, stasera grande partita, diciamo che oggi, essendo giovedì, facendo la registrata, c'è questo Roma-Milan, che sembra una cosa incredibile che continuino a dire che il destino di Pioli dipende da questo risultato, mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra. Tu cosa ne pensi? Beh, purtroppo è il modo di pensare un po' del tifoso italiano o del tifoso in generale, quando non vengono i risultati o i risultati sono quelli che un tifoso si aspettava. È chiaro che è più facile cercare di trovare in un allenatore un'unica persona irresponsabile. Ora, io credo che il Milan abbia vissuto un inizio di stagione, un periodo della stagione in cui ci sono stati tanti infortuni. Ora, poi bisogna capire se questi infortuni sono dovuti alle scelte dell'allenatore, del lavoro che faceva l'allenatore, oppure di un... Perché oggi nei grandi club non è solo l'allenatore, almeno nella maggior parte dei grandi club non è solo l'allenatore che sceglie i programmi di lavoro, c'è tutta una struttura di area atletica, di performance, di analisi della performance che decide i carichi di lavoro. Mentre l'allenatore generalmente a volte si occupa degli aspetti tecnico-tatici, fermo restando che per me tutte queste cose vanno tenute insieme. Però, ecco, quindi da questo discorso bisogna capire poi quali siano davvero le responsabilità di Pioli. Io credo che Pioli abbia fatto comunque un grande lavoro perché è riuscito a rimontare la Juventus, andare in seconda, c'è solo davanti questa Inter che è stata straordinaria, è un Inter che tra l'altro è uscita con l'Atletico Madrid dalla Champions, ma che si sarebbe potuto giocare la vittoria finale per quello che sta dimostrando sul campo. Da milanista non è facile dirlo. No, no, certo. Però è così, è la realtà dei fatti. Lo dico anche per rispetto di mio fratello che è interista, ecco. Sì, 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 lo so, lo so, lo so. Senti, comunque, niente, parliamo un po' di derby che poi la nostra trasmissione è improntata su questo derby che non è il derby d'Italia ma il derby della Madonnina. Avremo la tua intervista, poi avremo anche Memo Remici il quale però ci parla un po' di costume con la Milano di una volta, la Milano da bere e così via. Quindi esuliamo un po' dalla parte prettamente tecnica. Però, insomma, anche questo Inter bisogna per forza vincere perché bisogna vincere la seconda stella a casa del Milan. Secondo me è una cosa che non sta nel cielo né in terra. Che significato ha? Poi c'è un Inter-Torino e c'è un Juve-Milan la giornata successiva. Però è chiaro che per il tifoso interista è più viscerale, è normale che suoni ancora più come una beffa nei confronti dei rossoneri vincere proprio in questa partita, in questo derby. Noi invece i rossoneri e i rossoneri in generale non vorremmo che succedesse. Ci sta, dai. Ci sta. Sarà una partita, non sarà una partita facile credo per entrambe le squadre. Nessuno vuole mai perdere il derby. a maggior ragione oggi è un Milan che potrebbe, che non vorrebbe consegnare la vittoria finale nelle mani dell'Inter proprio in casa propria, proprio appunto nel derby. Quindi sarà, vedremo secondo me, una partita dai toni agonistici molto elevati. Sì, effettivamente. Poi c'è sempre quella croce delizia di Leao che insomma, se fosse sotto a Rigo Sacchi non so che fine farebbe Leao. Insomma, è proprio croce delizia. Ne gioca una bene e poi tre da svogliato. Forse è quell'atteggiamento però è il suo. L'atteggiamento è quello. Io credo che Leao vada preso così com'è, nel senso credo che lui stesso si renda conto che a volte il rendimento non è sufficiente. Cioè, potrebbe dare molto di più in termini se non altro di continuità. però a volte veramente fa delle giocate fa dei numeri fa vedere tutto il suo talento e questo a volte vale il biglietto diciamo così come frase fatta. È indubbio che ci si aspetti di più perché quando lui fa il Leao ci rendiamo conto che può davvero risolvere tante cose per la squadra. Dopodiché io dico sempre che il talento non basta a se stesso il talento ha bisogno di essere all'interno di un contesto di squadra ha bisogno di relazionarsi nella squadra calcisticamente e quindi anche qui lui ha bisogno dei suoi compagni ha bisogno che la squadra giri al meglio la famosa catena di sinistra tra lui e Teo quando funziona è davvero devastante e ci sono dei momenti in cui i due sembrano non essere dentro la gara speriamo che in questo derby invece siano dentro la gara a pieno. Quindi una menzione una menzione sui sui giocatori più importanti di questa stagione possiamo dire Magnan Teo Hernandez Leao e magari anche Pulisi Pulisi secondo me Pulisi tra i nuovi acquisti anche Pulisi ma anche l'off-to-sic se vogliamo sotto certi aspetti un andamento un po' più talenante all'inizio ad esempio è stato molto bravo dal punto di vista difensivo a formare questa cerniera difensiva lì davanti alla nostra difesa che secondo me ha aiutato molto poi invece è stato impiegato un po' più in una zona avanzata del campo è diventato più devastante in fase offensiva sì però hai detto tu i nomi giusti abbiamo sofferto siamo stati un po' fragili in certi momenti difensivamente vuoi per questioni di interpreti che non erano al meglio e vuoi a volte per delle appunto delle disattenzioni anche nella perdita di alcuni contrasti mi viene in mente a Sassuolo quando forse insomma entriamo in campo e andiamo sotto 2-0 dopo pochi minuti quindi anche qui un approccio che va che deve essere non dico rivisto ma deve essere sicuramente avere un'attenzione differente ecco e poi la difesa insomma molti gol molti gol incassati rispetto vabbè all'Inter che è una difesa quasi imperforabile io dico sempre che si difende insomma di squadra solo i quattro in linea che difendono piuttosto che con il portiere ma è tutta la squadra che si deve diciamo neanche sacrificare però deve mettersi nelle condizioni di poter difendere appunto la propria porta ed attaccare quindi questo doppio doppia fase come diceva sempre Arrigo per tanto per rimanere legato alle sue frasi e quindi avere la doppia fase per ciascun giocatore è una cosa importante ed è importante diventa importante per la squadra senti la posizione di Ibrahimovic che pare che abbiano dato carta bianca a questo Ibrahimovic eh sembra una cosa non è un simpaticone non è un simpaticone noi come interisti ci ha fatto vincere poi uno scudetto a Parma con quei due gol sotto la pioggia e Mancini però io non lo conosco l'ho conosciuto cioè nel senso due volte io lo incontro due volte una volta quando ero responsabile per il giovanile quando portai un ragazzo danese anzi svedese scusate che doveva venire da noi e lui fu gli disse lo incontrò e gli disse proprio a Milanello dice guarda se tu vieni qui vieni nel miglior club a cui tu possa andare quindi era stato molto carino da questo punto di vista e poi forse un annetto fa quando quando lo incontrai gli chiesi un selfie come si come si dice oggi no e oggi pare davvero che sia che la proprietà cardinale le abbia dato pieni poteri e quindi adesso tutto quello che avverrà tutto quello che succederà sarà almeno dal punto di vista tecnico sua responsabilità anche se penso che mi sembra di capire che ci sia molta apertura almeno dal punto di vista poi del processo decisionale per arrivare a prendere un giocatore o meno staremo a vedere insomma come si dice il tempo sarà il tempo sarà il gran tuo non mi piace però insomma capiremo meglio nei mesi che verranno senti io l'altro giorno sono stato alla Liga che abbiamo fatto una riunione sul controllo economico dei club che è una cosa che loro informano sempre ogni sei mesi e loro dicono che il loro obiettivo la Bundesliga perché è il campionato più autosostenibile rispetto alla Premier che la Premier prima o poi farà il botto però ha detto che effettivamente il governo che tu sei stato anche in Inghilterra nel Watford e così via il governo inglese sta facendo tutti gli sforzi possibili per ridurre un po' questi 1500 milioni che loro perdono annualmente e quindi anche la Premier e di conseguenza tutte le altre le altre leghe hanno diminuito molto i propri introiti che arrivavano dalla Premier la Premier sta un po' chiudendo i rubinetti insomma credo che poi ognuno faccia ammenda anche un po' dei propri errori e cerchi un attimino di fare una valutazione appunto più attenta e più accurata della possibilità e dell'obiettivo di essere sostenibili io spendo per quello che incasso dovrebbe essere così per ogni azienda lo è così nelle aziende di qualsiasi appunto di qualsiasi natura nel calcio spesso insomma vediamo che anche perché i controlli sono piuttosto labili accadono cose incredibili fino a quando ci ritroviamo a squadre a club che falliscono anche club importanti dovremmo evitarlo e dovremmo fare in modo che tutti partecipino come posso dire con con correttezza e rispettando quelle che sono le regole Filippo hanno fatto fallire il Chievo Verona per 17 milioni 17 milioni poi purtroppo sono quei piccoli club quelli che forse non hanno un certo peso a cui a cui non conviene non conviene più nessuno salvarli non conviene più nessuno sorreggerli e quindi adesso io non so sinceramente nello specifico i conti cosa sia accaduto al Chievo se non quello che ho letto sui giornali se non si sanno le cose fino a fondo forse è meglio tacere però sì alla fine dovrebbe essere che la legge è uguale per tutti anche questa è un'altra frase che non mi piace perché poi dobbiamo anche capire cosa c'è dietro quando qualcuno fa delle cose che non che non sono nella legge però anche qui diventano discorsi più troppo profondi e troppo e troppo insomma capziosi ci vuol tempo ci vuol tempo ultima domanda dai uno sguardo agli europeo nazionale nazionale allora sta venendo fuori questo scamacca qui insomma finalmente qui c'è dare credo gran merito a Gasperini insomma lo sta lo sta rilanciando lo sta ritrovando gli sta dando la possibilità di tornare a quel giocatore che mi ricordo poi quando addirittura andò al PSV se non vado errato dalla Roma se non erro quando era giovanissimo quindi era un talento su cui tutti pensavano di cui tutti pensavano potesse avere un futuro importante adesso sembra che stia ritornando a quei livelli è stato molto attalenante e speriamo che a questo europeo possa dare una spinta all'Italia io poi ho sempre una peli di elezione per la nazionale dei tre leoni però ovviamente tipo Italia ma poi l'Inghilterra mi è sempre simpatica anche se siamo sempre andiamo sempre nelle competizioni in difficoltà oltre anche alla Scozia Scozia e Inghilterra entrambe mi fanno sì eh beh là è un altro modo di affrontare il calcio e così via le atmosfere mi piacciono le atmosfere di quel calcio lì assolutamente sì 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 tu sei stato anche lì a Watford e l'hai vissuto in prima persona però poi mi piace quando posso vado in su anche da auto a fare il ground hopper cioè quello che salta da uno stadio all'altro anche quando non c'è di partire sono un po' matto sai che c'è quel club di tifosi che hanno visto tutti i 92 club di prima seconda terza e quarta divisione eh esatto magari magari ci sono ci sono c'è un club fatto apposta Filippo non ti tratteniamo ulteriormente noi ti ringraziamo presentiamo il tuo libro e va bene la prossima volta quando sarai sgravato da tutti i tuoi impegni ci rivedremo ok grazie ciao buona giornata ancora